Quarta tappa a Genova-Perenze di chilometri 265. Per i girini è una giornata di splendido sole. Dopo due ore di calma assoluta nella scendere il bracco, uno dei 14 gran premi della montagna. Fausto altasera dirà ogni giorno ne passa uno. Si cammina ad economica, salvo Magni che ogni tanto deve impegnarsi a salvaguardia della Rosa. Ritroviamo i classici paesaggi del giro. Un bracco senza avventure. Pasotti primo, Koblet coppi giudici. Petrucci forse matura già l'abbandono. Dagli alberi scendono applausi invece che cinque tini. Si transita per Viareggio. A Pisa la sorpresa. Rossi è scattato, Nessanti rotadone. Lungo il prato dei miracoli, il miracolo della giornata è ormai deciso. Hanno alzato la media, sono sui 44. Per 77 chilometri sostengono l'iniziativa. Dopo una volata disputatissima al traguardo delle cascine, De Santi corona la fuga. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.